13 Antonio Cinelli con il numero 15 Luca Krainch con il numero 17 Diego Farias numero 18 Nicola Varella numero 19 Fabio Pisacane numero 20 André Steglio numero 21 Antonio Balzano numero 22 Roberto Colombo numero 23 Luca Cempitelli numero 24 Marco Capuano con il numero 25 Marco Saur numero 26 Gianni Munari con il numero 27 Alessandro De Lava numero 28 Alberto Cerri numero 29 Nicola Murru con il numero 30 Marco Nessonari numero 32 Nicola Giannetti numero 33 Marco Fossati numero 35 Marco Salamone numero 36 Santiago Colombatto e grazie al mister Rastelli una terra, un popolo, una squadra palca perfeita un monumento in Serie A durante un anno tMM whichever il rig żen grazie nosso